Orrora in Germania, dove in una casa di Valle Inflessa nel nord della Baviera sono stati ritrovati corpi di otto neonati. La polizia è intervenuta dopo una chiamata anonima che segnalava l'esistenza di vittime nell'abitazione di una donna di 45 anni, forse la madre dei bambini, che ora è ricercata. Sarà l'autopsia a stabilire le cause del decesso dei piccoli.